buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di mobilità docenti e personaliata domanda numero uno sono titolare sul sostegno dall 1 settembre 2017 sono ancora vincolato a restare sul sostegno oppure posso fare domanda anche per posto comune si intende domanda di mobilità ovviamente ebbene il calcolo del vincolo quinquennale sul sostegno comprende l'anno in corso per cui partendo dall'anno 2021 2022 anno scolastico 2021 2022 e andando a ritroso 2020 2021 2019 2020 2018 2019 e 2017 2018 tutti coloro che sono entrati in ruolo giuridicamente sul sostegno proprio nel 2017 2018 saranno svincolati dal quinquennio potranno dunque fare domanda di mobilità 2022 2023 anche sul posto comune oppure solamente sul posto comune domanda numero due nella domanda di mobilità per il personale ata posso fare un'unica domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale posso scegliere un'altra provincia per mobilità da in altro profilo no il personale ata che vuole fare la domanda di trasferimento provinciale e contemporaneamente quella interprovinciale deve compilare due moduli due modelli di domanda distinti uno in cui inserisce le preferenze puntuali e sintetiche della provincia di titolarità e dunque fa domanda di mobilità provinciale e un altro in cui sceglie una sola altra provincia e inserisce le preferenze puntuali e sintetiche di quest'altra provincia per la mobilità interprovinciale in altro profilo invece deve scegliere la medesima provincia del trasferimento interprovinciale fatto nel medesimo profilo di titolarità domanda numero 3 i beneficiari dell'articolo 21 legge 104 92 sono sempre esclusi dalla gradatoria interna di istituto e quindi non devono comparire in tale gradatoria docenti di istituto per i perdenti posto allora diciamo una cosa che le precedenze di cui al comma 2 articolo 13 del contratto integrativo di mobilità sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla gradatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posti compresa la individuazione del perdente posto a seguito di un dimensionamento i docenti esclusi dalla gradatoria non vanno graduati ma comunque devono comparire con relativo punteggio in testa alla gradatoria il riferimento invece a quanto previsto l'articolo 11 comma 8 sempre nel collettivo nazionale integrativo della mobilità il diritto all'istruzione dei beneficiari del precedente comma 2 dalla gradatoria per l'attribuzione della cattelare orario esterna costituitesi ex novo si applica esclusivamente per cattelare orari esterne costituite tra scuole di comuni diversi o di distretti subcomunari diversi altrimenti vengono inseriti i docenti diciamo con il beneficio di precedenza nelle gradatorie se devono ricoprire una cattelare orario esterna nello stesso comune speriamo che queste risposte alle domande che ci sono state fatte siano utili a tutti i nostri lettori e continuate a seguirci perché la rubrica riprenderà settimanalmente a proporre risposte alle vostre domande arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti